Musica Si sente di nero anche durante l'estate, no durante l'estate è un assurdo, quindi pensiamoci di colori, pensiamo a un futuro pieno di positività come la nostra casa, la Blue Marine è solida, sicura e non ha problemi, non ha perduto un euro di fatturato Gli accessori sono meravigliosi perché abbiamo le scarpe che sono le ballerine coloratissime, meravigliose fatte nei nostri laboratori Le borse sono veramente un'opera d'arte e poi ci sono i mille accessori come questi che lei vede, che sono portafortuna ci sono le roselline che sono il nostro simbolo, i piccoli teschi, tutto un'immagine positiva, allegra, di libertà perché questo è quello che noi vogliamo, un messaggio che noi vogliamo dare Musica La donna Blue Marine è una donna molto romantica, colorata, ottimista, piena di fiori questo devo dire è una caratteristica della sua stilista e poi sempre delle loro collezioni quindi mi piace questa leggerezza e questo atteggiamento molto femminile che hanno sempre gli abiti Blue Marine Gli accessori ne vedo di bellissimi, in questa sfilata in particolare ho visto degli anelli a teschio florescenti veramente folli che mi piacciono moltissimo, a me piace una follia per cui vorrei vedere magari delle cose classiche reinventate in modo folle Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti Grazie a tutti